Radio Zimari Web e SSA Santo Mauro presentano Sunset Music a Panarea. Sous-titrage ST' 501 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 confronti della mafia. Del caso si sono occupati i carabinieri del nucleo investigativo di Palermo. Nell'ambito dell'inchiesta sette boss sono stati arrestati. Nell'arresto che involta la famiglia di Rocca Mezzo Monreale e i suoi vertici. Erano da poco tornati liberi dopo una precedente condanna al loro carico. L'accusa nei confronti degli indagati è quella di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Uno dei boss arrestati durante una conversazione telefonica intercettata dagli inquirenti diceva c'è lo statuto che hanno scritto i padrini costituenti. A condurre il brizio della DDA guidata dal procuratore Maurizio De Lucia nell'indagine sono stati arrestati anche degli uomini d'onore riservati, i quali fino a questo momento erano riusciti a sfuggire agli inquirenti. Il blitz a Monza. Recentemente un altro blitz dei carabinieri a Monza ha portato all'arresto di Quillip, quindi persone accusate di truffa. A seguito di una maxi indagine condotta dalla guardia di finanza di Monza, 15 persone sono state denunciati con l'accusa di aver percepito in maniera indebita dei fondi destinati agli aiuti Covid. Si tratta nelle fattispecie di imprenditori e soggetti invischiati con la criminalità organizzata della mafia. Andiamo all'indagine. Dall'indagine è emersa una frode da 330.000 euro, ottenuti da sui aiuti Covid. La vicenda è accaduto in Brianza. Due delle 15 persone coinvolte nella max frode sono state denunciate anche per indebito, ottenimento ed utilizzo di finanziamenti bancari assistiti da garanzia. Secondo quanto è preso da uno di loro sarebbe riuscito ad ottenere i fondi rivestendo il ruolo di legale rappresentante di un'attività commerciale. Tra i beneficiari c'erano anche degli imprenditori condannati per mafia. E poi andiamo ancora. Angela Celentano ha prelevato il DNA della ragazza sudamericana. Il prelievo del DNA è stato già spedito a Napoli. Si attendono accertamenti sui tratti simili tra Angela Celentano e la ragazza. In Sudamerica era stata individuata una ragazza con dei tratti caratteristici simili a quella di Angela Celentano. La bambina scomparsa sul monte Faito a Napoli il 10 agosto del 1996. La notizia arriva in seguito alla segnalazione di una foto raffigurante, una ragazza molto somigliante alla sorella della loro bambina. Per cui la ragazza si sottoporrà all'esame del DNA per scoprire se corrispondo o meno a quella di Angela. I genitori della ragazza sudamericana avevano contatti con Vico Quenze negli anni 90. Il legale Luigi Ferrandini aveva spiegato che la ragazza è difficile da avvicinare a causa di una rete di protezione molto forte per via della sua famiglia molto facoltosa. Esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente, ciò rende più complicata la raccolta del DNA e il precedere con gli analici. Negli ultimi giorni però è arrivata la notizia che è stato prelevato il DNA della ragazza somigliante a Angela Cerentano, che sarà spedito allo studio di Napoli di Ferrandino. Si prevede di poter procedere al confronto dei due profili genetici entro una decina di giorni. Oggi Angela avrebbe 29 anni e si attendono i risultati degli esami e accertamenti sulla voglia che nel 1996 la bambina aveva. Angela aveva una voglia nella parte destra della schiena mentre questa ragazza ce l'ha proprio al centro. E' stata infine interpellata una dermatologa che ha spiegato che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione. E andiamo un po', diamo un po' qualche titolo, ecco di... Ah no, andiamo direttamente alla notizia, Nangolan, si parla di Spalletti, gli auguro lo Scudetto e De Rossi sono pronti ad aiutarlo. Nangolan ha parlato a Radio Kiss Kiss anche del suo futuro. Auguro a Spalletti di vincere lo Scudetto che non ha conquistato in passato. Lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta utilizzando i giocatori nel modo migliore, si vede che sono molto uniti e fuori. De Rossi, oggi l'ho sentito, abbiamo un'amicizia importante che va oltre il calcio. Se ha bisogno di me, gli posso dare una mano. La Spall non è l'unica squadra che mi vuole. Cerco un progetto interessante. Daniele è al suo primo anno di allenatore e sono pronto ad aiutarlo. Tutto confermato dunque? La Spall è interessata, resta solo da capire se il Cagliari vorrà scendere in campo con forza. La notizia del 17 gennaio scorso per Luigi Gollini a Napoli e Salvatore Sirigu alla Fiorentina. Accordo raggiunto tra le società al netto dell'inserimento di altri club o di altri portieri, addirittura mannone. Accordo raggiunto è solo da certificare, nessuna sorpresa. Gollini ha completato le visi demetiche con Napoli che rileverà il prestito con diritto di riscatto che l'Atalanta aveva accordato alla Fiorentina. Nelle prossime ore, tra stasera e domani mattina, toccherà a Salvatore Sirigu che arriva in prestito secco e poi ci saranno gli annunci. E poi amici il presidente, io anche da Juventino dico che è stato davvero un bravo e un grande presidente, davvero un gran signore. Stiamo parlando di Massimo Morati, ex presidente dell'Inter. Ha parlato anche lui a Radio Kiskis in merito al tema plus valenze, alla penalizzazione della Juve e alla corsa Scudetto. Queste le sue parole. Juve penalizzata. Chi è quotato in borsa deve stare particolarmente attento. È normale, evidentemente non è un anno positivo per i bianconeri, però non commento sulle plus valenze. Non mi piace, lo trovo abbastanza pericoloso. Due battute sono state spese anche sui suoi colori nerazzurri. L'Inter al momento è fuori dalla lotta Scudetto, ma ha il dovere di fare bene fino alla fine. Anche se il Napoli sta facendo completamente un altro campionato. Agli azzurri comprerei osimeno. È eccezionale. L'ultimo accenno di Morati è per la Champions League. Se hai successo in Italia, sei forte anche in ambito europeo. E poi amici, oggi quando eravamo un po' sull'aliscafo ecco c'è stata l'eruzione, una grande eruzione riguardante lo Stromboli. Io do solo un accenno e poi domani ci sarà ecco direttamente la notizia da Nadia Solangi. Le riprese dell'attività strombolane è seguita dai vulcanolici e dall'ingegnere di Catania e della protezione civile. L'ingegnere di Catania descrive una normale attività stromboliana con attività di spattering ed un trabocco lavico all'area craterica nord. La frequenza oraria totale è stata oscillante tra valori bassi e medio-bassi. L'intensità delle esplosioni è stata in prevalenza media e bassa all'area craterica nord e media alta nella restante area craterica. E ora poi dopo si attendono ancora dei nuovi bollettini. Qualsiasi cosa potete andare sul notiziario delle isole Olie O se no domani mattina direttamente ecco con appunto il con Nadia Solangi E il TG Zimari con collaborazione col notiziario delle isole Olie E noi amici cosa facciamo? Torniamo, torniamo un po' a parlare di musica? Andiamo, andiamo! Radio Zimari Web e Sassà Santomauro presentano Sunset Music a Panarea Never gone night to dance again Come on Radio Zimari amici che trasmetto da Panarea In questo martedì 24 di gennaio Siete sempre a Panarea My fun My birthday cake My soul, my dog Take everything I love But oh One thing I'm never gonna do Is throw away my dancing shoes And oh lord Don't try me really Not tonight I'm never gonna not dance again I'm never gonna not dance again Oh, I just wanna pop it up to my records They go on to my clothes Never gonna not dance again Da musica alle tue orecchie Informazione alla tua mente Compagnia alla gente Non isolarti Radio Zimari La tua isola di musica Maura di musica Lo, I just wanna pop it up to my standards I'm never gonna do The musica I'm never gonna not dance again Grazie a tutti 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 Il studio a tenervi compagnia in questo martedì 24 gennaio Se sa che primo poi Grazie a tutti 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 E poi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti